Signor Colombo, ci può dare una valutazione su questa edizione dei saloni? Sì, dunque, questa edizione è stata caratterizzata da una massiccia presenza di clienti che provengono dalla Cina. Infatti credo che sia la presenza più massiccia che abbiamo verificato durante questo periodo. Sull'Est Europa avete rilevato un interessamento? No, diciamo che l'Est Europa fortunatamente mantiene le posizioni in maniera quasi totale. Non abbiamo avuto segnali di decrementi in tal senso. Considerando che l'Est Europa è una delle maggiori fonti di interesse in questo senso, direi che è stato globalmente un discorso positivo. Quali sono le linee di prodotto, le novità che avete presentato quest'anno? Le novità vanno in diverse direzioni. Noi abbiamo un prodotto che è più contemporaneo rispetto al prodotto tradizionale e poi il prodotto tradizionale. Diciamo che per quanto riguarda per esempio la Cina è forse il prodotto più tradizionale che ha ricevuto più consensi. Per quanto riguarda gli altri mercati è forse il prodotto più contemporaneo. Diciamo il mobile meno ricco rispetto a quello più tradizionale. Ok, basta. Perfetto. Mi guardavo come ti ho detto di qualcosa.